pensiamo a capodanno ciao a tutti e benvenuti da ombretta su arte per te come state? trascorso bene il natale? bene archiviato il natale? pensiamo al capodanno e pensiamolo in maniera creativa e fattiva oggi trasformeremo questo umile rotolino di carta igienica nel fermatovaglioli più lussuoso che abbiate mai visto e sì vi faccio vedere come cominciare l'anno con riciclo, ottimizzazione e lusso perché sì non è detto che da cose così umili non possa uscire qualcosa di bello prima però ti ricordo se non lo hai ancora fatto che ti aspetto in libreria con il ricettario dell'arte il libro in cui racchiudo tutte le mie ricette creative per creare colori, tutti i tipi di colori, gli oli, gli acquerelli, gli acrilici tanti medium per i pittori, insomma un po' di tutto per i creativi tutte le ricette a portata di mano in un libro che vi accompagnerà in tutto lo sviluppo della vostra creatività vi aspetto in tutte le librerie e qui giù in infobox vi lascio il link per poterlo acquistare anche online per farvelo arrivare comodamente a casa magari prima dell'anno nuovo vi aspetto inoltre su facebook, instagram, tiktok, su tutti i social e con i canali anche ombretta e due cuori una k il mio canale di lifestyle il primo e il canale di cucina che ho insieme a Gabriele il secondo mio canale vi aspetto a braccia aperte in tutto il mio universo social ma ora spostiamoci di là e andiamo a vedere il fermatovaglioli più bello con l'anima del rotolo di carta igienica come si fa ed ecco l'occorrente per i nostri fermatovagliolo un'anima di carta igienica o discotex per ognuna di queste anime verranno fuori due o tre fermatovaglioli delle perline, delle borchette, degli strass quello che avete a disposizione li trovate in tutti i negozi di belle arti e poi delle stecche di colla a caldo una normale e una glitterata sono vendute in confezioni multicolor io prenderò quella argentata mi occorrerà anche uno stampo per fregi io ho questo bellissimo un acrilico, anzi due uno dorato e uno terra ombra naturale un paio di forbici cominciamo subito schiacciando l'anima del rotolo di carta igienica che taglieremo circa ad un'altezza di 4-5 centimetri fa fede l'altezza del vostro stampo adesso con della colla a caldo normale riempio i miei stampi per fregi vi faccio vedere dovete stare attenti a riempirli tutti in ogni incavo e a far andare veramente la colla un po' ovunque nel frattempo io li riempirò tutti per farvi vedere come escono poi tanti stampi differenti ma useremo quello che ho riempito per primo faccio asciugare ben bene fate asciugare completamente prima di estrarre il fregio e tiratelo fuori guardate che meraviglia un fregio bellissimo dovrete solamente ripulire qualche sbavatura laterale ma soprattutto un fregio flessibile adesso prendiamo l'anima della nostra cartigenica e con la colla a caldo appiccichiamo due dei freggi fatti uno sul davanti e uno sul retro il nostro fregio essendo flessibile si adatterà perfettamente a quello che è l'andamento convesso del nostro fermatovaglioli adesso ricopriamo tutto con abbondante acrilico dorato bagnate appena appena le setore del pennello e mettete tantissimo colore nella parte liscia del cartoncino poi lì picchettate per dare un effetto metallico a sbalzo fate asciugare completamente dopodiché io creo un terra ombra naturale miscelando del terra di siena e del blu quando io dico blu intendo il bluciano e passo su tutto a ricoprire tutta la parte dorata che sarà bene asciutta con un tovagliolino di carta poi rimuovo questa patina lasciando uscire nuovamente il dorato che risulterà molto più brunito e antichizzato e voilà ecco il nostro pezzo bello e finito adesso facciamolo asciugare completamente passiamo adesso al secondo fermatovaglioli ritagliatelo leggermente più basso del primo io qui sto facendo un fermatovaglioli di circa 3 cm quindi da un'anima di carta igienica ne usciranno 3 circa e prepariamo una serie di strass, perline e borchette che applicheremo utilizzando la colla glitter attenti a non bruciarvi in questo passaggio perché la colla è infingarda ed incandescente appiccicate di seguito a fantasia, perline, strass facendo in modo che brulichino sul vostro fermatovaglioli sia nella parte anteriore che posteriore e anche qui se volete rifinire per bene il lavoro poi introducete un po' di carta velluto all'interno ecco qui il fermatovaglioli bello e pronto dite la verità, non viene anche da farsi un bracciale così? ebbè, è proprio un gioiello di lusso guardate come brilla è fenomenale bene, adesso diamo la forma che vogliamo che abbia come vi ho detto, se volete foderate l'interno con carta velluto e adesso vi lascio le foto per meglio farvi capire la bellezza di questi oggetti pollice in su se il video vi è piaciuto grazie a tutti Alleluia Christ the Savior is born Christ the Savior is born Christ the Savior is born Ora ditemi se non sono due gioielli, questo super moderno lo immagino in case bianche con alberi di Natale bianchi, rosa, azzurri, guardate come sbrilluccica tutto, è una favola, è durevolissimo tra l'altro. Mi raccomando all'interno, voi perdeteci un po' più tempo, foderatelo di una carta velluto adesiva, quindi semplicissima tra l'altro da mettere bianca o grigia e sarà per sempre il vostro fermato vaglioli. E' questo che in realtà è più affine ai miei gusti, più barocco diciamo, sembra di metallo ma è di cartoncino e guardate che bella figura che fa una volta asciutto, poggiato sulla tavola, sembra proprio un pezzo d'antiquariato, non è vero? Bene, e allora non mi rimane che salutarvi, augurarvi un inizio d'anno nuovo scintillante e creativo, che sia un anno pieno di fantasia, colore, creatività e curiosità, ma soprattutto salute e benessere. Vi mando un grande bacio e ci rivediamo sempre qua per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!